Una vita anticipazioni. Enoveva e Aurelio tornano nel quartiere come marito e moglie. La famiglia Bacigalupe sarà estinta con la morte di Annabel. Aurelio ha approfittato del caos generato dall'attentato per porre fine alla vita della giovane moglie. Dopo l'attacco Aurelio e Enoveva partono per un viaggio, dopo anni trascorsi in territorio messicano. Tornano nel quartiere portando con loro Marcelo Gastanaga è il maggiordomo della famiglia Quesada. Cinque anni dopo il vedobo di Annabel torna a casa come marito della Salmeron. La coppia fingeranno con i vicini di essere felici e di amarsi profondamente. Ma la loro unione è dovuta solo a interessi personali. L'arrivo nel quartiere dei Quesada sarà straordinario. La coppia ostenteranno le loro nuove ricchezze. Si stabiliscono al piano nobile dell'edificio 38 e decidono di ridecorare le stanze. Tutto ciò di cui avranno bisogno è di una cuoca. I telespettatori avranno modo di conoscere la timida Luz Divina Suárez, una cuoca che inizierà a lavorare a casa dei terribili coniugi. Marcello sarà incaricato di assumerla e la presenta ai suoi capi. Lei è Luz Divina, è una brava ragazza, commenta il maggiordomo. I due approvano la ragazza e la assumono. Quando Marcello rimani da sono con gli altri domestici, rivela il perché ha voluto portare la nuova domestica a lavorare con lui. Assomiglia alla mia defunta nipote, sono sicuro che mi ricorderà lei. Nel corso del primo pasto, preparato dalla nuova cuoca, Enoveva specificherà di aver trovato il cibo un po' salato, Marcello prenderà subito le difese di Luz Divina e prometterà alla signora che, in breve tempo la donna, diventerà una cuoca alla loro altezza. Il maggiordomo avrà fin da subito un atteggiamento abbastanza particolare. Le anticipazioni terminano qui. Per non perdere altri video, iscriviti al canale.